Questa è la classifica dei peggiori supereroi di tutti i tempi, parte 1. In quinta posizione, Squirrel Girl. Vi siete mai trovati in un bosco inseguiti da presenze oscure? No? Beh, in caso contrario, Squirrel Girl vi salverà. Il suo superpotere è quello di chiamare a sé mandri di tenerissimi scoiattoli. In quarta posizione, Stone Boy. Il suo fantastico superpotere consiste nel trasformarsi in un'incredibile, resistente, durissima e immobile roccia. 3. Dezler. Questa è l'eroina delle feste in discoteca, delle rimpatriate tra amici, perché il suo unico superpotere è quello di trasformare la musica in raggi colorati. Più o meno quello che farebbe questo... Mischiato a questo. 2. Gingini. Beh, qui il potere ce l'abbiamo. Questa eroina è in grado di creare veri e propri terremoti. Il problema è che si attiva solamente se ubriaca a marcia. Alla posizione numero 1, Dormen. Il più bello in assoluto. Vi siete dimenticati le chiavi fuori dalla macchina? Nessun problema, non chiamate i pompieri, ma Dormen. Che cos'è? È una porta. E che cosa fa una porta? Vi fa passare da un ambiente all'altro. Fine. Seguimi! Se anche tu hai dei superpoteri super inutili e vuoi vedere la parte 2 del video. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.